Qui all'interno, allora, se vorrete mai venire qui a Marsalam per rilassarvi e stare tranquilli, non è tanto distante, sono circa 4 ore di volo dall'Italia, quindi una meta facilmente raggiungibile senza troppe ore di volo e potete trovare all'interno ospiti internazionali e ospiti italiani perché dal general manager italiano c'è lo chef italiano per la pasta e anche l'animazione è dedicata anche a... no, è dedicata... e l'animazione oltre a essere internazionale c'è l'animazione al P-Club, quindi da responsabile alla responsabile miniclub per i vostri bambini. Potrete tranquillamente venirvi e rilassare qui come se foste in Italia.